Papa Francesco ha presieduto giovedì sera nella Basilica Vaticana i vespri della seconda giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Questa giornata, che si tiene per il secondo anno il primo di settembre in concomitanza con la Chiesa Ortodossa, è ormai un appuntamento ecumenico che invita gli uomini di fede alla custodia del creato, opera per cui Papa Francesco aveva già chiamato i cristiani con l'enciclica Laudato Si. Padre Raniero canta la messa, predicatore della Casa Pontificia, nell'Omelia ha sottolineato che l'insaziabile desiderio di alcuni di accrescere a dismisura i propri possedimenti e profitti arreca un grave danno alla terra, nei confronti dei quali l'uomo ha molti doveri, dal risparmio dell'acqua, alla purezza dell'aria, alla difesa delle specie a rischio, sempre glorificando Dio che del mondo è il creatore. Il Pontefice, ha proseguito padre canta la messa, raccoglie il messaggio del poverello di Assisi, quando ricorda l'intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta, spiegando che alla terra si deve applicare ciò che gli antichi dicevano della vita. A nessuno è data in proprietà, a tutti in uso.